La notizia viene come il Primalista prepara per visitare la regione dopo la settimana extensiva flooding ha avuto in una camera chair a meeting del Governo's Emergency Cobra Committee l'Environment Secretary List Trust ha detto che, despite recenti investimenti la situazione non sta a essere reassessata Abbiamo investito 45 milioni in la ultima parlamentsia sulle defenze flooding in Cumbria ovviamente, dopo questo incidente dove abbiamo visto un'imprecedente cioè, come mergem per strada l'ingue in Oklai Valley spre centrum e o vreme superba foarte cald soare parc-ar fi luna iunie la notizia viene in Grazie a tutti Grazie a tutti